Il progetto che presenteremo lunedì al Ministero per la Cooperazione sostanzialmente ha lo scopo di unire all'interno del Parco archeologico di Recontino i due comuni, Lentino e Carrentino, partendo alla porta nord per arrivare alla porta sotto e la creazione di sentieri nuovi che serviranno proprio per riscoprire le bellezze all'interno del parco alla ricerca anche di incentivare la possibilità di effettuare gli altri scavi per ricercare i beni preziosi. Grazie.